ciao a tutti eccoci qua a questo è dopo gp per il primo gran premio dell'anno è martedì 12 marzo solo le 18.01 con 24 ore di ritardo come dice giustamente davide fano per colpa dello zam ed eccolo qui lo zam che chiamo subito in causa ciao giovanni eccomi qua buonasera a tutti ciao nico il tempo di rientrare ma non è l'unica pecca di oggi il ritardo di 24 ore perché non c'è linge questa è la brutta notizia ma niente di preoccupante sta facendo un tagliando di primavera ci abbiamo parlato a casa sta bene dopo vi racconto il suo pensiero con noi c'è rené pierotti che ha seguito tutto il weekend ciao rené ecco a tutti buonasera buonasera allora si comincia col botto è stata una bellissima sfida con una gran ducati 2024 pecco bagnai al campione che si conferma super bagnai a binder martin sul podio la ktm che sorprende l'apriglia che purtroppo dopo la bella impresa di sabato deludere la domenica e e i tempi dei giapponesi indietro ma si sapeva già i tempi scendono tantissimo vedremo perché c'è anche lince che dice la sua pur non essendo qui in presenza e c'è stato l'esordio di pirelli in moto 2 e moto 3 allora zam la prima domanda è d'obbligo ciao a tutti quelli che si sono già collegati come è stato il tuo primo weekend da inviato nei box di sky dimmelo tunico come è stato come ti è come è sembrato a te perché io mi sono divertito io mi sono divertito bello è un altro modo di vedere di vivere il gran premio la gara purtroppo la vedo un po peggio rispetto a prima perché ovviamente non mi posso segnare i momenti salienti non posso fare i miei strischi le mie crocette il mio lap chart insomma non posso fare tutte quelle cose lì vedi vedi meno perché appunto sei dentro un box lo vedi là dal monitor magari non hai bene i tempi sotto mano però è emozionante emozionante secondo me stare al box è sempre emozionante stare a contatto eh stare a contatto con i piloti con i protagonisti con gli ingegneri con i tecnici insomma è molto bello e molto particolare ma sì io ti devo dire che mi aspettavo come Boselli che tu all'uscita della della pit line urlassico mondannato chiamando i piloti salutandoli pacche sulle spalle mentre invece non è successo no non sono capace di fare qualcosa lì non sono capace quella cosa lì non la faccio di sicuro qualcuno dice ragazzi dieci minuti di applausi per lo zam tradotto in tedesco su sky germania questo non lo sapevi magari non lo sapevo di sicuro mi dispiace i tedeschi stavano così bene loro senza la mia tradizione saluto velenio che lo conosco e allora al di là di questo bene allora questa prima gara come l'avete vissuta cosa vi è sembrato eh bello bello e positivo Zama e poi René ma è stata una gara che comunque ha già fissato dei paletti secondo me importanti anche se è solo la prima gara anche se il Qatar è molto particolare sappiamo tutti i sei del mondo anche se tutti dicono il vero mondiale inizio da Jerez che è una frase a cui io non credo così tanto perché questi punti valgono esattamente come i gran premi da Jerez in poi ecco a me comunque è sembrato è sembrato interessante questa cosa che comunque un solo gran premio abbia evidenziato evidenziato dei punti fermi che sono secondo me bagnaia assolutamente bagnaia che è questa KTM che mi sembra sempre più solida e questo market che comunque è già il riferimento della GP 23 quindi questi tre paletti secondo me li ha messi abbastanza importanti René beh allora questo nel senso che guardandolo solo guardando a bagnaia e Martina è sembrato un GP della fine dello scorso anno Martina più veloce il sabato e il venerdì è il sabato e poi bagnaia che arriva la domenica e vince la gara però in tutto questo ci sono stati inseriti due ingredienti da nulla perché c'è a costa e c'è anche Marquez che è là davanti quindi insomma mi sembra un bel miglioramento rispetto all'anno scorso queste sono le cose che mi hanno colpito eh sì e l'Ing che ripeto appunto sta facendo il tagliando di primavera però ci siamo sentiti oggi e giustamente ci tenevo a sapere cosa cosa ha visto lui come ha giudicato lui questo primo gran premio del Qatar allora lui dice delle cose molto interessanti come sempre e parte dai tempi no questi tempi eccezionali zampi hanno stupito tutti perché siamo scesi 11 secondi nella sprint un secondo il giro siamo scesi dappertutto tempi bassissimi e lui dice sono tanti gli ingredienti di questa di questo guadagno di questo incremento intanto le gomme le michelin che sono sicuramente evolute la pressione la nuova regola della pressione minima che secondo l'inch ha concesso a quasi tutti di spingere di più generalmente la gommatura dell'asfalto perché lui dice dall'op evidentemente eh portava via distruggeva la gomma lasciata da michelin sulle corsie sulle traiettorie e pirelli questo lavoro non lo fa cioè non distrugge quella gomma che michelin lascia eh sulla pista aumentando dunque grip della moto gp infine anche l'aerodinamica perché dice linge le le velocità in curva sono più elevate e lui dice anche per le moto 23 che secondo lui sono state evolute alla fine però dice lui non è cambiato molto perché chi parte davanti abbiamo visto come bagnaia si sia studiato a tavolino e si è riuscito a fare l'impresa di portarsi in testa dopo 30 secondi chi parte davanti godi di un vantaggio chi parte dietro invece naturalmente paga chi ha per la pressione la temperatura delle gomme che sale sia appunto per l'aerodinamica meno efficace perché disturbata dalle moto che precedono questo è un po il punto allora partiamo differentemente dal solito da costa c'è una domanda che giustamente renevi ai posto vi dice parliamone perché allora costa è stata una sorpresa meravigliosa e veloce è convinto però appunto ha scelto una strategia lo ha spiegato chiaramente dieci giri da leone mezzo ai primi per imparare per capire come si guidano sti mochi gp guardando i migliori e poi pazienza se la seconda metà di gara era fatalmente ha dovuto pagare chiaramente il consumo delle gomme le temperature troppo alte eccetera certa giusta cosa dicono gli elettori e cosa dice lo zan e poi lo zan beh per me scelta giusta per tanti motivi prima di tutto perché comunque inizia a respirare quello che è il clima là davanti quando le gare sono serie e poi al di là del fatto che ha finito la gomma è tutta esperienza cioè era solo la prima gara è stato davanti si è fatto vedere ha fatto anche quel sorpasso a markets che comunque sarà stato più simbolico che reale però è stato bello ne parliamo perché è stato un bel weekend è un bel è un bella costa in gara si zan concordi perché qualcuno l'ha criticato e ma però così ha bruciato le gomme ma no ma no no assolutamente lui è stato grande protagonista tra l'altro il sabato se fosse partito bene se non avesse fatto un po di casino lì con l'abbassatore eccetera avrebbe avrebbe anche lottato fosse addirittura per il podio per i primi cinque di sicuro e secondo me ha fatto quello che doveva fare in una gara ha imparato tutto quello che doveva imparare ha imparato come funzionano le gomme ha imparato come funziona l'aerodinamica ha imparato come funziona la partenza perché di fatto poi la domenica non l'ha non l'ha sbagliata anche se in realtà perso una posizione poi al via è comunque una costa che ha fatto tutto quello che doveva fare un debuttante e secondo me l'ha fatto molto bene io quindi sono 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 dalla sua parte nettamente anch'io aggiungo che non so più chi l'aveva detto nella diretta che a me ha ricordato moltissimo abbe abbe con una moto rossa come la sua suzuka detto un lettore nella diretta che ho fatto domenica sera ai fatti anch'io l'ho trovato così certo poi aveva rotato la vittoria e lui era un po più dietro però anche a parte la moto rossa ricordava anche il fisico lampanato lungo poi anche la guida lui tiene i gomiti piuttosto larghi ed è particolare insomma molto molto interessante lo seguiremo ovviamente partiamo da ducati allora intanto raccontami zam il clima in ducati cosa hai visto di particolare che magari non è stato ancora raccontato la 2024 rispetto alla 2023 tutto quello che hai da dire su ducati ma la cosa che mi ha colpito di più è che siamo arrivati il giovedì fino al giovedì la ducati gp24 sembrava la moto perfetta la moto imbattibile la miglior moto mai progettata da un ingegnere e poi abbiamo iniziato il primo la prima giornata è vero con martin davanti a tutti ma con tanti problemi con tanti problemi questo chattering che per la verità martin aveva già evidenziato durante i test e insomma una moto che improvvisamente non è diventata più così perfetta poi come spesso succede in casa ducati e qua tutti dicono e io mi aggiungo a tutti quanti tutti dicono che il merito di avere così tante moto in pista con così tanti tanti dati a disposizione riesci sempre a trovare una soluzione poi appunto dalla dal venerdì mattina la domenica sera la gp24 è tornata a essere dominante però secondo me è un aspetto da sottolineare con due sfaccettature la prima è che appunto la gp24 deve ancora essere messa a posto non è ancora perfettamente a posto e quindi questo è il lato negativo per ducati ma il lato negativo per tutti gli altri è che hanno ancora margine di miglioramento mi viene da dire e quindi e quindi questo fa fa pensare che tempo due o tre gran premi il famoso e rete sulla frontiera vedremo una ducati una gp24 molto 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 competitiva e molto veloce ecco questo è un po l'aspetto per quanto riguarda la gp23 ho sentito prima che dicevi che l'ingegnere ha detto che ci sono state delle modifiche che io non conosco però io le evoluzioni lui parla di moto comunque evolute nel 2023 secondo me no io su questo faccio una scommessa con l'ingegnere secondo me non ci sono state evoluzioni particolari della gp23 e almeno che io sappia no e comunque insomma rimane anche nella versione 23 una una grandissima moto una moto molto competitiva è una moto che si può giocare in questo momento la vittoria poi vediamo quando la gp24 farà l'assestamento definitivo vedremo a che livello sarà tu rene giustamente hai raccolto i pareri di giudizi di pecco bagnaia e di bezzecchi su moto 2024 2023 ci puoi riassumere un po le loro parole che ci danno un quadro più preciso della situazione sì volevo dire prima che in catarra la 23 non ha mai vinto perché l'anno scorso ha vinto la 22 con di gianantonio e quest'anno ha vinto la 24 allora bagnaia ha detto cerco le parole precise sulla differenza tra 23 e 24 ha detto non riuscivo a fare percorrenza facevo fatica era una moto con cui cercavo di frenare il più forte possibile e sfruttavo il grip in uscita e percorrenza non riuscivo quasi mai a farla mentre questa moto qui ti porta a fare più percorrenza quindi quella che era un po più direi stop and go si può dire e mentre questa è una moto c'è molto diversa perché se questa devi fare percorrenza è proprio uno stile che deve cambiare riguardo alla 23 invece bezzecchi sul suo sito ha scritto ha scritto che è come essere in sella a un cavallo selvaggio e mi sembrano parole abbastanza forti e abbastanza problematica però dice un po scorbutica ma prima o poi riusciremo a domarla a 11 giri dalla fine questo è interessante quindi praticamente a metà gara ho messo la mappa c che è la mappa con minore potenza quindi per riuscire a continuare a guidare ha dovuto diminuire addirittura la potenza eh sì evidentemente anche per bezzecchi questo problema di una 23 con la quale si fa poca percorrenza e quindi come diceva bagnale era guidata più ruvidamente sforzando la frenata e anticipando l'uscita perché appunto sulla percorrenza invece un po paga beh bisogna farci la mano e non è proprio facile per niente d'altra parte l'anno scorso i problemi di inizio stagione per bagnale per martin furono notevoli ci ricordiamo pure no e quindi e nonostante dico la squadra ufficiale per pecco tutti gli ingegneri a disposizione insomma con un bel vantaggio rispetto al team privato di di bezzecchi e allora come hai visto zam bastianini perché ha fatto una bellissima sprint e poi gara invece non è riuscito a tenersi dietro marquez ha fatto un po più fatica perché beh bastianini è uno di quelli che ha reso meno di quanto mi sarei aspettato soprattutto dopo quanto aveva fatto vedere il venerdì perché il venerdì di fatto nell'unico turno disputato perché poi l'altro è stato fatto incredibilmente con il bagnato però aveva dimostrato avere un buon passo e anche direi sabato mattina mi sembrava avesse un buon passo poi ha fatto una buonissima qualifica perché ricordiamo che era terzo e poi in gara secondo me ma anche nella sprint dico secondo me ha reso meno delle aspettative e quindi è un bastianini che comunque ha iniziato decisamente meglio rispetto all'anno scorso è banale dirlo ma è anche giusto sottolinearlo perché ricordiamo che l'anno scorso di fatto alla sprint ha finito il suo campionato nella sprint al secondo giro e invece qui insomma comunque limita i danni ecco però non è non è bastianini che io pensavo di vedere e non è il bastianini del 2022 in questo momento quindi gli manca ancora qualcosa di confidenza con questa moto non 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 ancora fatto quel salto di qualità che almeno io da lui mi aspetto infatti era andato bene qualifica partire dalla prima fila io addirittura del pronostico tra amici la sprint l'avevo dato vincente e sì certo mi aspettavo effettivamente mi aspettavo di più anche sabato e marquez allora vi dico che linge su marquez dice è penalizzante vedere uno come lui che non può fare nemmeno un acuto come del resto a costa che costa deve alzare bandiera bianca metà gara per aver spinto troppo e e marquez essendo lì in mezzo alle scie alle temperature alte tutte le volte che guadagnava terreno lo vedevamo su chi lo precedeva poi doveva mollare per riportare la la gomma anteriore soprattutto a una pressione a una temperatura ideale quindi un bel problema allora linge aggiunge una volta c'era naturalmente chi sapeva vincere partendo in testa come ha fatto per questa volta ma c'era anche chi diceva e rimonta oggi questo tipo di gara temo lo vedremo sempre meno appunto perché le gomme e condizionano lui dice ripete il suo mantra vorremmo pneumatici meno estremi e regole di sull'aerodinamica per limitarne gli effetti e noi la sposiamo sta tesi beh si regole sull'aerodinamica io credo che arriveranno un po tardi nel senso che comunque arriveranno nel 2027 ma arriveranno e gomme meno estreme io questo non non so cosa dire nel senso che allora le Michel adesso secondo me sono esattamente estreme ma sono anche molto molto competitive fanno fare dei tempi con pochissima differenza tra il miglior tempo e il peggior tempo sul giro è una come dice giustamente linge tempi sempre più interessanti più belli record che cadono chiaro chiaro e quindi questo è un aspetto quello delle gomme non credo che si possa regolamentare non credo che puoi dire a un costruttore di fare gomme meno estreme o magari puoi puoi limitare limitare che ne so io la scelta della mescola ne fai una sola e quella ti devi usare non lo so adesso dico una cosa a caso ma l'aerodinamica nel 2027 sarà sicuramente regolamentata in qualche maniera io credo che spariranno gli abbassatori completamente in catar c'è stato il primo incontro della msma delle case costruttrici con dorna dorna ha portato delle proposte regolamentari per il 2027 sinceramente non so quali e non so come sia finita la riunione ma è chiaro che adesso cominciano le discussioni però quello sarà un argomento è un argomento che stanno sicuramente valutando quello delle dell'aerodinamica da diminuire eccetera volevo fare una domanda sulle gomme a zam ma anche a nico se è antonio che ci fa la regia antonio mulas riprende quella foto di a costa che è completamente sdraiato per terra volevo chiedere a zam e a nico quando è che i piloti hanno cominciato a sdraiarsi proprio tutti così quando è arrivato quello quello quel momento lì c'è solo a costa nella foto intendo io lascio rispondere nico ma io direi sicuramente sicuramente negli ultimi anni con michelin sono aumentate le pieghe la velocità di percorrenza e la piega in curva eccolo qua spaventoso sì sì ma la spalla ormai è se uno volesse toccherebbe con la spalla insomma certo ma direi che finché siamo sul tema gomme appunto tu zandi ogni ogni gommista alla sua filosofia no michelin punta alla prestazione assoluta e nonostante gli inviti nostri e di tutti anche dei piloti delle squadre di fare governi estreme tengono la loro linea interessa di più così anche se qualche problema lo pone noi vorremmo regole diverse sulla pressione minima ma tant'è pirelli ecco come giudichiamo l'esordio di pirelli che era una delle cose più interessanti più importanti tecnicamente di questo primo gran premio moto due moto tre ma pirelli pirelli allora tanto punta anche pirelli naturalmente sulle prestazioni perché i tempi sono molto molto buoni considerando facendo però tutte le considerazioni che la pista era decisamente più veloce rispetto al 2023 come dimostrano i tempi della moto gp pirelli secondo me allora sto dedicando sto facendo raccogliendo un po di dati mettendo assieme un po di informazioni dedicherò a questo argomento la notizia in prima fila domani su moto.it però quello che io ho visto è che in moto tre possiamo dire che sono andati molto bene molto bene in assoluto in moto tre sono partiti più o meno tutti con le stesse gomme sono andati molto veloce hanno abbassato i tempi eccetera eccetera in moto due c'è stata un pochino più di confusione e un pochino più di fatica da parte delle gomme c'è chi ha scelto questa che si chiama sc01 e quell'altra sc00 se non faccio fatica con le sigle comunque morbide media diciamo così lo schieramento era più o meno diviso a metà su questa scelta sono andati bene come tempi all'inizio a me ha colpito però molto questo calo di prestazioni da metà gara in poi molto in stile superbike perché se guardiamo le gare della superbike c'è molta differenza tra il miglior giro che fa ciascun pilota rispetto al peggior giro dello stesso pilota c'è molta differenza quindi c'è questo calo da gestire è chiaro che avevano pochissimi dati questo bisogna riconoscerlo perché comunque hanno fatto solo due test durante l'inverno uno tra l'altro con il bagnato venerdì si è messo pure a piovere nel turno delle moto due quindi non hanno girato quindi hanno mille scusanti mille mille dati meno rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere però è chiaro che qualche problema è emerso poi la Bosco Scuro per esempio ha sfruttato la grande le gomme no perché tre moto ai primi quattro posti però la Bosco Scuro aveva vinto anche l'anno scorso su questa pista è andato forte con entrambi i piloti insomma è chiaro che ci sono mille scusanti però io in moto due sinceramente pensavo un pochino meno di difficoltà pure con tutte le attenuanti del caso cosa dici rene io si condivido certo andare le cose proprio lisce però vedremo vedremo soprattutto a porti ma abbiamo qualche dato poi sono curioso di vedere questa questo rapporto che c'è tra il passaggio della delle pirelli prima e poi delle miscelenze davvero fa questo regala più grip più velocità cioè ci sarà da vedere gare più veloce polla ancora più veloce insomma tutto più quanto è stato 14 secondi più veloce la gara rispetto all'anno scorso quest'anno di MotoGP no calcolo stimato c'era un giro in meno però facendo una stima togliendo l'ultimo giro mi sembra fosse 14 secondi che è più di mezzo secondo al giro veloce l'abbiamo pubblicato nelle considerazioni adesso non è così è così e vabbè ducati grande ducati da sistemare meglio la 24 ma già vincente quindi un bel passo avanti rispetto alle ultime due stagioni che sono state proprio sofferte all'inizio ktm ecco ktm si era nascosta nei test il dubbio è venuto perché il ktm ha fatto due meravigliosi secondi posti con bret binder ma soprattutto ha fatto vedere un motore e un'efficienza che è abbastanza spaventosa perché andava a passare sul dritto le ducati è ma no l'abbiamo visto dicono anche nel 2023 come sembravano in grande difficoltà fino ai test e poi sono arrivati alla prima gara e devono andati e devono andati piuttosto forte adesso non mi ricordo se anche lì aveva fatto secondo binder a portimao l'anno scorso comunque era finito sul podio e loro hanno questo metodo nei test provano tutto quello che devono provare per poi mettere assieme tutto per la prima gara io credo che la ktm non abbia fatto un salto in avanti pazzesco ma lo ha fatto ed è molto più solida nelle prestazioni molto più costante a me da questa impressione e poi aggiungo anche che a costa al mio modo di vedere serve anche come stimolo a binder binder l'abbiamo visto l'anno scorso cambiare passo no in qualifica perché miller comunque faceva certi tipi di prestazioni in qualifica ecco con a costa fa gli serve per fare un ulteriore un ulteriore passo in avanti un ulteriore passo in avanti e nico mi ti chiedo soltanto un secondo per tornare un attimo alle gomme pirelli perché prima qualcuno mi ha detto in in diretta domenica è stato molto più critico con la pirelli no avevo solo detto e lo ripeto che mi aspettavo un inizio più facile per la pirelli moto 2 ed è quello che è quello che volevo dire domenica sera magari l'ho detto male però questo sì esatto c'è anche carlo baldi che lo salutiamo ciao carlo e dice bautista fa spesso il record della gara negli ultimi giri secondo me ma tu due devono solo adattare le loro moto alle gomme sicuro che debbano farlo questo sicuro che debbano farlo quanto a bautista sì però lo zan giustamente diceva un degrado dei tempi c'è ora se bautista più diciamo più avvezzo a girare forte alla fine che all'inizio adesso bisognerebbe studiare mi figlio di carro è per carità ciao carlo insomma è tutto da imparare certo tu parlavi di la costa zam e per miller non sarà un'iniezione di positività perché adesso miller è partito subito in confusione purtroppo per lui ma è una bella spina del fianco e immagino è per miller credo che la situazione psicologica non sia facile è vero che lui è australiano e insomma meno caliente di noi ci sta meno attento però insomma mi sembra che la sua strada sia abbastanza segnata sia abbastanza segnata e che lo sa anche lui e lo sa anche lui perché voglio dire è chiaro che a costa è destinato ad andare nel team ufficiale voglio dire questo è chiarissimo quindi lui chissà se varrà un posto nel team gas gas però insomma io credo che lo sappia anche lui e passando ad aprilia allora diceva l'apertura che dopo una bellissima sprint che era la sprint era il più forte sul finale era incredibilmente veloce quindi tutti si aspettavano potesse far molto bene in gara domenica invece non è stato così è dato la colpa alla gomma posteriore ottavo 11 secondi vignale solo decimo purtroppo dico aprilia sembrava molto meglio messa soprattutto con aleish zam e poi rené beh aleish ha fatto una grandissima sprint perché anche lui se fosse partito bene mi sembra che in partenza abbia perso otto posizioni se non mi ricordo male nella sprint ecco e loro continuano avere questo problema cronico con le partenze perché partono più o meno tutti male con l'apertura quindi non può essere colpa del pilota secondo me o comunque non può essere solo colpa del pilota ma evidentemente c'è qualche cosa da sistemare al via però dopo era andato fortissimo aveva fatto 52 4 il penultimo giro che è un tempo pazzesco e fosse partito bene secondo tutti i piloti avrebbe vinto tanto è vero che tutti lo indicavano come il favorito anche per la gara e cosa è successo in gara allora ricordiamo intanto che c'è stato questo inghippo della partenza ritardata un giro in meno non hanno potuto mettere le termocoperte insomma anche qui secondo me hanno fatto un po di pasticci tanto per cambiare però insomma questo può aver determinato una così una non accensione no come si dice della gomma posteriore di alessio spargarò io ero davanti al box quando lui era entrato al box quando lui è tornato al box è sceso dalla moto ha guardato la gomma posteriore ha indicato ai tecnici quella io poi non l'ho sentito cosa ha detto ovviamente i tecnici ma era chiaro era evidente che per lui il problema era quello era solo quello lo abbiamo visto anche in passato lo abbiamo visto qui con martina e lo vediamo qua abbracciato con l'anno scorso è capitata lui ve lo ricordate no in catara è andato molto piano in gara e quando ti capita questo non vai da nessuna parte questo è chiaro poi dopo se sia ripeto dovuto al fatto che non sono state montate le termocoperte la gomma si era affreddata troppo oppure lui dice che già dal giro di ricognizione ha capito che avrebbe avuto dei problemi e però l'aspetto secondo me preoccupante di aprilia nico non è questo perché comunque lui va va forte e insomma io gli credo quando dice di aver avuto questo problema è che sono gli altri che non che vanno piano non ce n'è nessuno che va più che va forte vinales sembra sembra smarrito obiettivamente olivera non si vede più raul fernandez ha sempre qualche sfiga tecnica è preoccupante è preoccupante perché va forte solo uno per il momento eh sì è così René scuoti il capoccione è così sì sì sono completamente d'accordo qualcuno chiedeva si sa cosa è successo alle due aprile di fernandez una penso avesse un problema gli sia apparso un errore sul 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 dashboard sì all'inizio con l'altra poi l'ha dovuto prendere l'altra semplicemente no lui è partito e lui è partito con la seconda moto a particolare seconda moto perché la prima non non accelerava insomma non non aveva potenza però lì lì è stato fatto uno sbaglio enorme lui lì doveva essere preso e portato fuori dalla dalla griglia di partenza come è successo in moto 3 assolutamente come è successo in moto 3 invece lui si è impuntato di rimanere lì a me sembra insegnare cioè non è che il pilota che deve decidere infatti perché io ho visto commissari decisi c'era un commissario corpulento che era deciso a far rispettare le regole cioè la cosa è ridicola che pilota che invece non ha ubbidito non è stato sanzionato cioè quella è una cosa assurda sì assurda questo è assolutamente se no ogni volta la procedura di partenza rischia il tilt che senso ha tutto questo ma infatti in moto 3 è uguale in moto 3 il pilota non voleva lasciando non voleva lasciare la griglia l'hanno preso l'hanno spostato l'hanno messo fuori e la gara è partita ma com'è giusto che sia come normale che sia sì 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 anche lì il pilota ha cercato di ribellarsi tutte le maniere cominciato a spingere indietro tornare indietro visto cioè non è stato proprio istantaneo quindi anche quello andava secondo me sanzionato e invece passando le giapponesi va bene ci si aspettava purtroppo per loro niente di meglio alla fine quarta raro undicesima diciassette secondi è il miglior pilota sulle giapponesi con la yamaha rinsa addirittura sedicesimo 24 secondi le onda non ne parliamo zarco dodici mir tredici da canna da cagami 19 marini ventesimo partiamo da yamaha allora zam sorprende perché mi regali era fiducioso mi ricordo una tua diretta con lui lui era fiducioso sulla possibilità diceva silo la concorrenza è cresciuta tanto però noi abbiamo tante cose nuove siamo finalmente convinti aver fatto delle scelte giuste però non si vede ma allora i yamaha sono entusiasti sono veramente entusiasti del lavoro del metodo di max bartolini del lavoro del metodo di max bartolini che tra l'altro io ho detto che che era ingegnere che è ingegnere invece non è ingegnere mi sono confrontato con lui tra l'altro ha avuto una storia a ingegneria che è molto simile alla mia e un giorno la racconteremo io lui assieme però sono tutti entusiasti di max bartolini del suo metodo del suo approccio del suo modo di fare della sua aggressività nell'introdurre certe componenti eccetera anche i piloti anche i piloti lo dicono e questa è la parte positiva allora mi viene da dire che è ovvio che anche max bartolini per quanto bravo possa essere non si può pensare che lui è arrivato lì a gennaio e da gennaio a oggi faccia recuperare un secondo alla yamaha che era quello che gli mancava l'anno scorso è impossibile questo voglio dire sarebbe ingiusto pensarlo quello che mi ha colpito negativamente mi è successo mi sembra sabato sera parlavo con due tecnici uno di yamaha e uno di onda per caso erano assieme nel paddock mi sono aggiunto anch'io che sia in onda sia in yamaha a detta di questi tecnici sono rimasti sorpresi dai miglioramenti che hanno fatto le altre case in particolare la ducati secondo loro con la gp 24 ecco questo mi ha colpito perché voglio dire secondo me te lo devi aspettare che gli altri continuano ad andare avanti che non è ma non si raggiunge mai la perfezione nelle corse ecco mi ha sorpreso questa cosa che loro siano rimasti sorpresi dagli miglioramenti che hanno fatto gli altri questo è un aspetto secondo me da valutare magari si aspettavano sì un passo avanti ma il loro occhio più esperto forse vede più lontano di noi hanno visto una 2024 particolarmente avanzata vedremo questo possibile già certo è che 17 secondi per Quartararo sono un'enormità e qualcuno dice bisogna fare i complimenti a zarco si va bene ok è stato migliorondista ma cosa è successo a marini in particolare avete capito marini lui domenica sera ha detto ho avuto un problema al primo giro e però non ha voluto dire quale quindi non so non so non so rispondere a questa domanda comunque ti volevo fare una domanda visto che è saltato il gran premio dell'argentina e le e onda yamaka possono fare i test dopo dopo i test dopo i gran premi rimarranno sicuramente a portimao a provare lo sa qualcosa in questo senso mi ha detto luca l'ha detto nel podcast che proverà lui proverà per la prima volta a barcellona non so quando non so se non andranno a provare a barcellona ma non so quando sarà sicuramente prima della degli stati uniti credo io c'è l'intervallo lì tra portogallo e texas ok c'è valentino 26 05 giustamente mi anticipa dice quarta raro alla penna in mano pronto a firmare per una qualsiasi casa europea beh certo se quarta raro aspettava le prime gare per capire quattro ore via ma adesso è solo la prima per carità però si parte male e il mercato piloti ribollirà già nelle primissime gare di quest'anno vero zanno ma sono d'accordo con caroletto pernat quando dice che quarta raro sarà il primo a firmare o da una parte o dall'altra è chiaro che tutti noi siamo convinti che al 99,99 per cento va via dalla yamaha tutti noi siamo convinti di questo e però yamaha farà di tutto per tenerlo giustamente certo adesso io non so come quali mosse e potranno fare me regali ha parlato di un grande cambiamento dal mugello in avanti se non mi ricordo male mi sembra che abbia detto a sandro non altro grosso sky che dal mugello in avanti ci si vedranno delle grandi novità però non so se il mugello sarà tardi non sarà tardi anche perché poi lui due anni che riceve promesse quarta raro due anni che riceve promesse prima o poi si stufa si stufa tutti pensano che lui se ne va se ne andrà però vediamo io non sono d'accordo con questa frase di simone se a quarta raro offrono ancora più soldi firma nuovamente per yamaha perché penso che gli abbiano già fatto una bella offerta due anni fa per farlo rinnovare e non penso che sia una questione di soldi perché comunque sono lunghi due anni con una moto che non va eh sì sono lunghi però fermo restando che i soldi sono una bella molla eh trovo che per quarta raro ci possa essere anche un terzo elemento il secondo è fidarsi di yamaha e delle e del progresso che si potrebbe vedere da polmugello come dice rozzano la terza considerazione il fatto che lui ha sempre guidato solo le yamaha cioè allora abbiamo visto lorenzo quanto ci ha messo ad adeguarsi al v4 per dire magari qualche piccolo dubbio può averlo anche lui lo so è la butto lì alla fine dovrà decidersi in fretta questo sì perché sarà come dice il perma probabilmente il primo a firmare sono d'accordo non pensi già che per quattro a un minimo di dubbio possa arrivare ma allora i piloti nicoli conosci bene anche tu questo dubbio non ce l'hanno mai perché loro ogni pilota pensa di essere migliore dell'altro quindi non pensa al fatto che se lorenzo ha fatto fatica allora faccio fatica anch'io almeno io credo che loro non ci pensino e secondo me non ci penso magari ci potrebbe pensare la casa che lo va a prendere dice ma prendiamo un rischio perché voglio dire tutte le altre hanno il motore av ok e io però non credo io credo che 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 quarta raro venga individuato giustamente a mio modo di vedere come uno dei piloti in in grado di fare la differenza e quindi secondo me non ci sarebbero dubbi eventualmente a firmare per un'altra casa ok certo che come sottolinea qualcuno le differenze sono ormai talmente minime che anche il pilota come dice zam che può fare la differenza è bisogna avere se basta perché stiamo parlando di pochissimi decimi che sono dentro tutti in una formula che appiattisce un po i valori in campo quindi alla fine non so è tutto da da valutare eh prima di passare magari eh scusa nico ma ma facciamo un piccolo accenno su dove potrebbe andare però facciamolo dov'è che potrebbe andare quarta raro se non in onda in onda ma va là no in onda non ci credo in aprilia eh secondo me c'è per per posti liberi per ktm cioè binder ha già rinnovato la costa sembra destinato lì quindi aprilia sì in ducati non non ci va e quindi rimarrebbe l'apreglia però o onda allora onda eh non sono così ottimisti di uscire dai dai problemi eh nico al contrario di quello che pensiamo noi da fuori perché io continuo a pensare che a me sembra che loro abbiano fatto una bella rivoluzione anche a livello umano eh nel senso di tecnici però chi è dentro in onda non è così convinto che questa rivoluzione porterà a chissà quali benefici e quindi a quel punto a quel punto quarta raro perché dovrebbe lasciare la onda no la Yamaha per la onda eh non so a meno che nel prossimo tre gare la onda non si mette andare non lo so io sono curioso di vedere cosa può fare la Yamaha con Rins ad Austin e io credo che anche quarta raro ci guardi un po' le prestazioni di eh di Rins a Austin perché ricordiamo che ha vinto anche l'anno scorso con la con la Honda ha vinto con la Suzuki ecco quello magari potrebbe essere anche lì per capire un po' meglio il livello eh non che quarta raro mi sono un po' incartato non voglio dire che quarta raro ha bisogno delle conferme di Rins no però però quello potrebbe essere su una pista dove lui fa la differenza e dice ah guarda però la Yamaha può arrivare lì hai capito un po' come era successo con Marquez con la Honda in Germania no che sembrava adesso va in Germania l'anno scorso vince invece ha fatto 154 cadute di fila e ecco io la vedo un po' così però secondo me non ne può più ma giustamente lo capisco e però tu escludi Ducati però alla fine Ducati beh in Pramac adesso io spero con tutto il cuore che Morbidelli si ritrovi si si intenda bene con la sua Desmo 16 e tutto però però se dovesse andare male quel posto lì è ambito eh quel posto lì sicuramente è ambito però boh non lo so se voglio dire la eh la Ducati si non lo so non io non lo vedo in Ducati non lo vedo in Ducati allora sappiamo che in Pramac va al Deguer e quindi un posto già segnato Martina va via dalla Ducati Pramac perché l'ha detto lui stesso l'ha detto il mio intento è l'ultimo anno con la Ducati Pramac e Morbidelli è chiaro che Morbidelli se se va molto male eh si penserà un sostituto però eh a quel punto voglio dire ci sono Bastianini c'è Marquez c'è eh vuoi dire il Dijon Antonio eh da linea ha detto che è difficile che rimarranno quattro team no nel duemila e venticinque quindi un team si perderà e però insomma i piloti mi sembra che già ce li abbiano e che non abbiano bisogno ulteriormente di quarta raro già hanno preso Marquez quest'anno boh non lo vedo eh almeno non lo vedo io poi dicevo anche che Marquez non sarebbe mai andato in Ducati e infatti è infatti eh va bene dai allora andiamo intanto sulle sulle altre categorie Moto3 Alonso grande Alonso quando c'è la volata la vice lui su Holgado furusato quarto quarto Rossi bravo Riccardino su Weyer e Neppa e il grande protagonista Ortolà ha battuto e poi in grande di moto è arrivato nono bella gara Moto3 e sì molto combattuta al solito super spettacolare Nico impressionante Alonso però io credo che sia impressionante perché ricordiamo che lui è al secondo anno del mondiale è un ragazzino tutti i piloti lo hanno indicato come il favorito numero uno per il mondiale tutti i piloti nessuno della MotoGP è iniziato con qualche difficoltà venerdì e poi domenica ha una lucidità nell'ultimo giro una capacità di mettersi sempre nel posto giusto nel momento giusto un'aggressività sportiva nei sorpassi insomma a me sembra uno fortissimo mi sembra veramente uno fortissimo sì perché poi quando vedi questi finali dei Moto3 hai voglia di dire strategicamente l'ultimo giro devi cominciare almeno nei primi quattro sì vabbè però poi alla fine e anche se mi permettete la parola molto culo perché dove sei tu ci può entrare un altro spostarti di un metro e da secondo ti trovi quinto come ridere quindi e lui invece c'è sempre questa cosa qui è abbastanza straordinaria davvero cosa puoi aggiungere no quello che aggiungo è che è molto più giovane tutti gli altri anche tra l'altro e quindi questo cioè a volte è un vantaggio a volte uno svantaggio perché a volte magari questi risultati li fai solo per la spregiudicatezza però lui le ha vinte se non ricordo male ha vinto cinque gare e mi sembra che almeno quattro l'abbia vinte con quella tica lì arrivando con il gruppetto in fondo e poi sapendo cosa fare molto meglio di tutti del 2006 e colombiano sì e invece moto 2 lopez su baltus primo podio garcia terzo ecco gli italiani purtroppo vietti 9 nono disastro foggia arbolino addirittura fuori dai punti lì c'è stato un'incapacità di gestire le gomme sistemare la moto tutto quanto a concorso a una gara particolare molto molto difficile e ho visto un bosco oscuro sul podio raggiante gli ho mandato un messaggio perché sembrava un attore all'oscar del cinema se l'ho meritato tutto quel trionfo lì luca grande bosco poi insomma tre moto nei primi quattro posti è mancato al de guerre è mancato quello che sembrava essere il sicuro vincitore devo dire che già dalle dalle qualifiche è andato male perché poi ha preso anche la penalizzazione per aver staccolato al cover se non mi ricordo male e insomma però è chiaro che bosco scuro è come da linea dai bosco scuro la bosco scuro è come la ducati in moto gp bello dai bello perché lui comunque è è un piccolissimo costruttore ci mette un sacco di passione ci mette un sacco di soldi e sceglie i team e i piloti soltanto in base a chi gli piace non in base a chi lo paga in una certa maniera quindi per me è un bello spirito e sono veramente contento di vederlo lì davanti poi alonso è uno che mi piace mi piace moltissimo anche al de guerre ma alonso mi piace molto insomma è uno che ricordiamo l'anno scorso sembrava dovesse spaccare il mondo non ha vinto nemmeno una gara l'opets sì alonso l'opets non ha vinto nemmeno una gara ha subito tantissimo lo strapotere del compagno di squadra ecco rivederlo in prima fila in qualifica e poi primo al traguardo per me è stato bello volevo aggiungere due cose su alonso che l'anno scorso tra l'altro alonso lopez zam si parlava che avesse addirittura quasi già firmato con yamaka no per la moto gp e quest'anno al de guerre un po nella solita posizione perché in su anno lui è già accreditato per essere moto gp secondo me ma il de guerre è già in moto gp questo lo dico è un classico io l'avevo detto è già in moto gp al cento per cento ok ma e dici che ha avuto dei problemi tecnici o è stata la pressione a fregarlo in questo in questo primo gran premio no qui sai quando cominci ad andarti male un attimo ti nervosisci la penalizzazione partiti indietro poi evidentemente non è riuscito a prendere il ritmo che pensava di prendere può succedere può succedere un po tutto insomma lui qui partiva nettamente favorito come in moto 3 tutti hanno indicato come si chiama alonso come grande protagonista e allo stesso modo è al de guerre indicato da tutti come il sicuro vincitore e comunque ci sta che un pochino di pressione te lo mette ma io sono convinto che al de guerre torna fortissimo se vincessero i mondiali david alonso e al de guerre avremmo un vincitore del 2006 e uno del 2005 quindi proprio verdissimi ecco davvero per chi non fosse stato collegato fin dall'inizio e si stupisse di non vedere con noi e linge che ha la prima assenza in undici anni perché siamo all'undicesimo anno di dopo gp tanto per dire ripeto il fatto che sta facendo il tagliando di primavera ma è a casa sta bene tutto a posto lo rivedremo lo rivedremo dopo il gran premio del portogallo allora la prossima gara porti mao 22 24 marzo la moto gp farà 25 giri su pista e 4590 è bella pista lo sapete piena di sali scendi molto impedimenti va anche fisicamente che cosa ci aspettiamo zam ma andrà in moto intanto no no in portogallo no ero andato una volta all'estoril con un aprilia atlantic 500 un sacco di anni fa con uno scooter sì ho fatto quel viaggio con l'aprile atlantic 500 e bocca da aspettarsi più o meno sempre lo stesso ricordiamo che l'anno scorso vinse due volte bagnaia vinse la sprint e vinse e vinse la gara tra l'altro scurami nico perché mi è venuto in mente che l'anno scorso fin dalla prima gara non avevamo mai visto tutti i piloti iscritti al campionato sulla griglia di partenza e non l'abbiamo mai visti per tutto il campionato quest'anno fortunatamente in catar l'abbiamo visto sia nella sprint sia nella gara ecco l'anno scorso vinse bagnaia e comunque alla fine i valori io credo che siano sempre quelli non sono curioso di vedere l'ulteriore passettino in avanti di marquez che ricordiamo aveva fatto la pole l'anno scorso con la onda a porti mauo già e quindi con questa ducati potrebbe essere lì a giocarsi già la vittoria eh sì rene sulla prossima gara o sulla su no io volevo volevo fare parlare prima che finisse la trasmissione stavo guardando della tuta aperta di marquez che era una cosa che non si era accorto nessuno durante è vero dai che abbiamo fatto abbiamo da parte la fotografia è venuta fuori domenica sera l'ha fatto vedere da zone credo è venuta fuori domenica sera però io non so quando è successo questa cosa non lo so eh no quello che si è capito è che comunque a differenza di quarta raro che due tre anni fa a barcellona gli si si ricorda tutti si aprì tutta e poi prese la penalità era successo scusami io neanche l'anno scorso a olga martin è a martin l'anno scorso che però riuscì a tirarsi la sua e non prende la penalità questa di marquez che è sempre un alpine stars come le altre due però è leggermente sganciata e non ha non ha portato al a una penalizzazione di marquez ecco e però e però quando è di quando è questa foto e questa è la detta la variabile determinante che io non lo so non lo so se è stato se anche io l'ho visto su da zone spagna ma non sono riuscito a capire di quando a che momento fosse da quel che dicono verso la fine della gara mi sembra di aver capito che aveva fatto quindi di gara con così sì ma la cosa la cosa che conta direi cioè lui ha finito la gara con la tuta parzialmente aperta e questo non si sa secondo me ecco non è quello che dobbiamo chiarire va bene magari era a fine è già finita la gara magari no chiedo e non lo so che veramente non lo so no da come l'ha messa da zone spagna era durante la gara però non è scesa più di questo di questo pezzettino che si vede qua questo si è bloccata ricordiamo che per questioni di sicurezza no tanto per compensare il discorso il pilota deve avere la sua attrezzatura perfettamente efficiente se no si deve fermare e perché l'airbag potrebbe non non attivarsi perché potrebbe perdere una protezione interna e quindi c'è questa infatti quartararo era stato penalizzato tre secondi si era preso no se lo aveva preso tre secondi perché si era anche elevato il come si chiama l'articolo del petter si va beh questo è rene ci sono domande particolari da dedicare sono segnali un po di domande si si ha insegnato un po di domande poi vi volevo far vedere quella foto su cui ho fatto un articolo con con le undici moto e discorso le prime guide allora vado a cercarle ecco non abbiamo parlato di bezzecchi che era una domanda che johnny ha fatto come mai bezzecchi fatica questa gp 23 no in realtà abbiamo detto che sta lavorando e la definita come come un cavallo selvaggio aspetta sì perché abbiamo aggiunto che pagnaia al primo dire questa moto 2023 non ha nella percorrenza suo forte è una moto da guidare con diciamo così stop and go e probabilmente per bezzecchi è una scoperta amara perché non si addice al suo stile di guida sì però sì esatto esatto e poi c'era carlo baldi che prima ci aveva fatto questa domanda che me l'avevo segnata per dopo ducati con vari problemi ma vince entrambe le gare campionato segnato cioè nel senso che vince di nuovo ducati beh certo insomma diciamo che sia favorita mi sembra evidente però andrea d'agio perché comunque abbiamo una ktm che sembra molto in forma ok ce ne sono una barra due che vanno forti di là ce ne sono almeno sei però e poi c'è anche l'apriglia che comunque ha fatto vedere al meno nella sprint un enorme potenziale con la laser spagano dunque è troppo presto decisamente per avere un quadro anche se il ruolo di favorito aspetta ducati allora dico a questo proposito io ho fatto un sondaggio dopo la prima gara la domanda è ducati vinci in catara rimane la moto da battere secondo voi aprilia e ktm si sono avvicinate ducati no rimangono lontani secondo il 16 per cento se si sono avvicinate entrambi secondo il 50 per cento si è avvicinata solo ktm secondo il 33 per cento e si avvicinata solo aprilia solo per l'uno per cento quindi però il 50 per cento degli appassionati ritiene che ktm e aprilia si siano avvicinate ducati e quindi certo il verdetto non è scritto assolutamente bene allora 22 annotazioni su morbidelli dice arts 76 morbido so che non ha fatto praticamente test ma vederlo così in fondo mi fa pensare e royce 11 ma fra quanti gran premi possiamo criticare in modo onesto e severo il morbido giusto perché sembra non si possa mai toccare con una moto del genere arrivare ultimo è roba secondo me almeno 45 gran premi di li dobbiamo concedere non avendo fatti test essendo la moto nuova ovvio che in questi cinque gran premi deve passare dalle ultime ai primi dieci per esempio comunque poi c'è stato comunque sottolineare quello che ha detto gino borsoia della distanza si vuoi dirlo tu no vai 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 tu le sentire comunque diceva che morbido ha fatto un gran progresso tra sprint e gara e loro sono tutti sorpresi dalla velocità con cui sta prendendo le misure ducati e questo mi sembra molto interessante no zan sì interessante appunto il distacco che è rimasto invariato 24 secondi che sono comunque tantissimi però è rimasto invariato tra la gara sprint che sono 11 giri e la gara la gara della domenica che sono 22 giri quindi vuol dire che lui di fatto è come se avesse dimezzato il distacco poi è chiaro che poi più lento vai è più facile recuperare e dopo diventa più difficile però so questa piccola questa piccola luce in fondo al tunnel si vede è chiaro che la situazione è molto complicata molto io aggiungerei che cinque sei gran premi sono troppi anche perché il mercato si muove molto presto quest'anno e dunque per per lui c'è un po' l'urgenza di ridurre questi tempi direi che in un paio di gran premi si deve vedere qualcosa di decisamente diverso secondo me poi c'è br 46 che dice a costa farà andare ancora più veloce binder io dico intanto ha fatto tagliare la barba miller per farlo sembrare più giovane e poi l'ha fatto cadere poi magari può essere anche lo stimo sì ma è quello che ho detto all'inizio che bind sicuramente stimolato da costa io sono sono d'accordo con vuole quante sei se devo assieme come come io sono convinto per esempio che un vignale su un po più in forma sarebbe di stimolo ad a lei e questo è molto importante in una squadra poi c'è gioia mass che chiede a zam ti risulta che credi che sì che cretini che gresini abbia già rinnovato il contratto con ducati sì per due anni ok ok quindi 25 26 24 25 direi a ok ok quindi l'aveva rinnovato già l'anno scorso non sono sicuro sia alla fine del 2023 ok e poi c'è jack london che dice ma anche l'ing si ammala non è che sarà solo un bug tecnico speriamo no è solo un mai detto dico è un tagliato tagliato è passato rapidamente dall'ospedale di verona è stato male aveva l'appendicite perché è un bambino di fatto noi lo trattiamo come science come science uguale l'hanno sistemato il 448 e oggi è tornato a casa niente di che nico se mi concedi vi faccio l'ultima domanda entrambi che è su questa cosa qui sulle hanno scelto undici moto per questa foto e io ho fatto un po una provocazione un pezzo dicendo che queste di fatto sono le prime guide perché i team si sono dovuti chiamare a scegliere una sola moto quindi parto da dalla nostra destra il team lcr di cecchinello ha scelto la moto di zarco siete d'accordo sì o no tra zarco e nakagami io sì ma sì certo ma sì però non è non è così se non è che decidono la prima guida mettono la moto che è arrivata prima nel campionato precedente se c'è un pilota nuovo decidono con con comunque è un pretesto a definire qual è sicuramente la prima guida certo assolutamente infatti poi hanno messo ovviamente tra causa ha messo oliveira mi sembra l'88 questo che sono d'accordo ovviamente e poi ecco vedi per esempio sul team gresini alex è arrivato davanti a marchi in campionato però hanno scelto marco vabbè qui parliamo di mark marquez si farebbe un autogol a non mettere la moto di mark marquez poi è il fratello maggiore dunque è tutto in famiglia ovviamente ktm ha messo binder ducati ha messo bagnaia pramac ha messo martin vr 46 ha messo che aprire ha messo espargarò yamaka ha messo quarta raro a onda messo mir e gas gas ha messo però augusto fernandez e ma quello vale il discorso che a costa un debuttante non c'era e quindi hanno messo a parte che poi il numero è talmente talmente simile che lì lo puoi confondere si infatti c'è questo problema molto difficile 37 e 31 e scritti mi sembra anche col solito colore se si confondiamo che a costa non si offenderà per questa cosa no la prenderà con filosofia che sa benissimo di essere forse la guida ktm addirittura qui direi va bene allora ingeri prenditi facciamo nostro naturalmente l'augurio dei lettori ma sei già ripreso l'ince quindi ce lo rivedremo sicuramente zan quali sono i tuoi programmi prima di partire per il portogallo una settimana di tranquillità ce l'hai ma programmi appunto domani vorrei dedicare l'approfondimento sulle gomme pirelli cercando di mettere assieme un po' di dati un po' di considerazioni un po' di sensazioni tenendo bene in considerazione che soltanto la prima gara ci mancherebbe altro però mi sembrava giusto farlo e poi abbiamo sempre i soliti approfondimenti podcast che so già con chi chi sarà il mio ospite di domenica ma non ve lo dico perché devo ancora avere la conferma ufficiale hai lasciato un indizio però può essere può essere carino benone ci fidiamo pienamente e allora grazie antonio mullas che ci ha fatto la regia grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a qua grazie all'ingio che da casa comunque ci ha passato le sue note importantissime a tezza ea terrene buona serata alla serata a tutti ciao 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 ciao